Il governatore Roberto Chiuto a lavoro sul comparto sanità annuncia la decisione di istituire in cittadella la centrale unica per il servizio 118. Aveva poco più di 40 anni, l'ennesima vittima della strada statale 106 Ionica. Una donna si è scontrata con un tir a Corigliano Calabro. Come sarà a Catanzaro nel 2032? Visioni verso il futuro. L'architetto Fabio Rotella ha presentato un masterplan per l'associazione Lab32. Rocella Ionica, bandiera blu da 20 anni. Il comune lavora all'organizzazione di una tre giorni, protagonisti soprattutto i giovani. A Frascineto, studenti molto attivi e protagonisti nel corso della manifestazione dal titolo Una Corsa contro la fame nel mondo. Sabato 28 di maggio 2022, ben trovati sul 15 per l'informazione regionale di Esperia TV. Siamo a lavoro per riorganizzare il servizio del 118 in Calabria. Faremo presto una centrale unica alla cittadella regionale. Lo ha detto il presidente della regione, Roberto Chiuto. Stiamo organizzando il 118 pronto soccorso, così il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto. Stiamo lavorando in verità da mesi, ci stiamo lavorando insieme ad Areu, che è la società pubblica della regione Lombardia, che si occupa del 118. La Calabria è l'ultima regione per tempi di soccorso. Stiamo vedendo di ricostruire l'organizzazione. Faremo un'unica centrale operativa del 118 qui nella sede della cittadella, così come ci sarà un'unica centrale operativa dell'112, che è il numero unico che i cittadini in tutta Italia possono comporre per chiamare il 118, i carabinieri e la polizia. È un lavoro complesso perché abbiamo trovato un sistema con cinque centrali operative, con software diversi. In alcuni casi questi software non erano nemmeno collegati alla rete internet, però ci stiamo lavorando. Io credo che il lavoro di ricognizione del sistema fin qui compiuto e anche il lavoro di progettazione degli interventi sia già a buon punto. L'incontro con i giornalisti si è svolto nella sede della Giunta a Catanzaro. Alla base poi la carenza di medici. Cosa si può fare per invertire questa tendenza? Mancano medici in tutta Italia. Il nostro sistema è purtroppo meno attrattivo degli altri sistemi regionali della sanità e quindi noi abbiamo un problema nel problema. Di questa cosa ho parlato stamattina a lungo anche con il ministro Franco. Ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana con i tecnici per valutare la possibilità di stabilire delle condizioni straordinarie, eccezionali per il reclutamento dei medici. Non so se ce la faremo, è un percorso molto stretto, difficile, ma ci proviamo perché il nostro sistema sanitario ha bisogno di medici. Mi fa arrabbiare la circostanza che le altre regioni chiedono di poter sfondare i tetti di spesa per assumere più medici. Noi potremmo assumere circa 2.000 tra medici e infermieri e negli anni passati non è stato fatto. Il fatto che si abbiano risorse accantonate dai bilanci delle aziende sanitarie e poi ai cittadini calabresi non si è assicurato il diritto alla cura fa arrabbiare ancora di più. Quasi fermi per due anni alcuni esami specialistici ma si riparte, si parte anche in fretta. I medici internisti, vale a dire i medici di medicina interna, ne stanno discutendo in questi giorni a Ferroleto Antico. Ci siamo giustamente concentrati sul Covid ma inconsapevolmente abbiamo abbandonato gli studi e le attività di follow up verso pazienti con malattie croniche degenerative. A poco più di due anni dallo scoppio della pandemia da coronavirus anche il sistema sanitario calabrese fa i conti con quello che resta e con quelle che sono le prospettive a medio e lungo termine. A tracciare il quadro della situazione è Gerardo Mancuso, vicepresidente nazionale dei medici di medicina interna. Sono la gran parte dei pazienti del nostro paese, sono pazienti con età superiore ai 70 anni che hanno più malattie e oggi scopriamo che queste malattie sono più evolute, hanno una gravità maggiore, hanno complicanze maggiori e tutto questo non si recupera e quindi noi dobbiamo mettere a punto strategie che consentano di migliorare l'intervento terapeutico in questi pazienti. Abbiamo l'obbligo come società scientifica e come comunità calabrese di intercettare questi pazienti e di iniziare un'attività. Certo non è solo l'atto medico che consentirà di migliorare il quadro, qui è necessario fare una strategia coinvolgente o meglio cercando di essere guidati anche da chi deve regolare il sistema perché se non si regola bene il sistema noi avremo fra poco pazienti più malati, mortalità maggiore e con maggiore disabilità. Una donna di 42 anni è morta nell'incidente avvenuto all'alba di oggi sulla statale 106 a Corigliano. Secondo una ricostruzione la donna era al volante di una Renault Twingo che per causa in corso di accertamento ha urtato violentamente contro un tigra all'altezza di contrada Torricella. L'impatto è stato fatale per la donna che è sbalzata fuori dalla sua vettura finendo sull'asfalto, immediati soccorsi giunti sul posto ad opera dei sanitari del 118. ma per la donna non c'è stato nulla da fare. In azione hanno operato la squadra dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale. In cronaca un'operazione congiunta svolta in diverse città italiane, tra le quali anche Reggio Calabria, ha permesso ai carabinieri, alla Polizia di Stato, coordinati dalla Procura Distrettuale di Roma, di scoprire una presunta associazione con finalità terroristiche. Operazione di polizia di Stato e carabinieri in diverse città italiane, tra cui Reggio Calabria. Le forze dell'ordine hanno eseguito numerose perquisizioni disposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale, nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone. L'operazione costituisce l'epilogo di una più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall'utilizzo del dark web. L'attività investigativa ha avuto inizio oltre un anno fa in seguito alla segnalazione, acquisita dall'antiterrorismo della Polizia di Stato e dal ROS attraverso l'FBI, dell'esistenza di un sito di propaganda dell'organizzazione terroristica ISIS presente nel dark web, cui potevano avere affatto accesso internauti presenti in Italia. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi device, oltre a materiale informatico, su cui proseguono gli approfondimenti. C'erano anche manuali di combattimento e di autoaddestramento tra il materiale scaricato da utenti in Italia. Polizia di Stato e Carabinieri hanno scoperto un voluminoso elenco di circa 2000 indirizzi IP riconducibili a visitatori del sito, i quali, oltre ad aver frequentato in più occasioni l'ambiente virtuale nascosto, avevano scaricato materiali di propaganda dell'organizzazione terroristica. Voltiamo pagina. Quando i costi superano i ricavi, i comparti come la pesca scendono in piazza. E a quanto sta accadendo a Corigliano Rossano in questi giorni, con la flotta peschereccia di Schiavo Nea, tra le più importanti del Mediterraneo, in continuo sit-in davanti il porto. Stiamo portando avanti un'avvertenza di carattere nazionale, dice Ignazio Gentile, presidente di alcune cooperative di pescatori, anche perché dall'inizio della guerra il costo del gasolio è più che duplicato, passando da 50 centesimi al litro ad oltre 1,15 euro. E ora ci occupiamo di rigenerazione urbana. Andiamo a Catanzaro, vediamo questo servizio di Antonio Capria. Una Catanzaro accogliente, moderna, dinamica e proiettata verso il futuro, una città capace di ricucire e coinvolgere il suo territorio, sviluppando i temi della rigenerazione urbana, della mobilità sostenibile e della digitalizzazione. Sono gli obiettivi del progetto di riqualificazione urbana Master Plan Catanzaro 2032, ideato dall'architetto Fabio Rotella, su iniziativa dell'Associazione Lab 32 e presentata alla presenza dei candidati a sindaco. Immaginando e pensando a Catanzaro come una città metropolitana, una città che è immersa in un territorio, quindi non più città ma appunto territorio, circondata dal verde come lo è, da geograficamente una posizione meravigliosa, ma anche poi la sua cultura e tutto quello che fa parte appunto anche del vissuto di Catanzaro come territorio, dal mare fino alla Sila e tutto questo lo abbiamo fatto progettandola come una moderna città, quindi una smart city con tutte quelle che sono le caratteristiche oggi plausibili del Web3. Il progetto è partito nel marzo scorso da una tavola rotonda che è riunito sul web professionisti, imprenditori, amministratori locali, tecnici e semplici cittadini per pensare a soluzioni capaci di sviluppare il tessuto urbano di Catanzaro. Con questo gruppo abbiamo sviluppato questa, è una sorta di visione di una città del futuro, il riferimento io l'ho voluto fare un po' la città di Tommaso Campanella, la città del solito di Tommaso Campanella, lui già parlava di una città concentrica dove ogni centro e ogni quindi sua circonferenza era una skills, quindi una qualità della stessa città. Politica, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato e il coordinatore regionale del partito del senatore Ernesto Magorno hanno incontrato oggi il presidente della regione Occhiuto per confermare il sostegno di Italia Viva all'azione di governo. Continuiamo a sostenere con convinzione il lavoro messo in campo in questi mesi dal presidente Occhiuto con particolare attenzione all'ambiente e trasporti e alla sanità. Si tratta di temi che toccano la quotidianità di tutti i cittadini. La vicenda delle presunte molestie sessuali e risceito Maso Campanella di Belvedere Marittimo finisce nelle aule del Tribunale. Al centro della vicenda è il caso di un professore di 62 anni accusato di aver molestato 5 studentesse dell'Istituto Superiore e anche di una tentata violenza nei confronti di una ragazza. Il GIP del Tribunale di Paola ha infatti fissato per il prossimo 5 luglio la data della prima udienza preliminare per stabilire se il professore dovrà affrontare il processo oppure no. Nell'ambito dell'operazione Propagine in cui era coinvolto anche il sindaco di Cosoleto, il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti tra gli altri di Francesco e Giuseppe Versace, ritenuti partecipi al locale di Indrangheta di Cosoleto appartenente alla frangia diretta da Francesco Alvaro. Ebbene il Tribunale della Libertà in esito all'udienza tenuta nei giorni scorsi ha disposto la scarcerazione per Francesco e Giuseppe Versace annullando quindi l'ordinanza cautelare. Ed ora ce ne andiamo a Chiaravalle Centrale dove il sindacato Spicigielli, in parole poveri il sindacato dei pensionati ha promosso la seconda edizione del concorso Libera Età. Vediamo. Insieme unici perché diversi attorno a questo tema il sindacato pensionati della CGL e l'Auser, anche la Valle Centrale, hanno dibattuto in occasione della seconda edizione del premio Libera Età. Grazie ai lavori pervenuti, poesie e racconti, ci si è soffermati a riflettere sulla diversità e su come spesso da valore aggiunto diventi spesso elemento discriminante e di emarginazione. Un incontro tra vecchie e nuove generazioni, un dialogo aperto con i giovani che hanno partecipato al concorso a premi con le loro composizioni ed hanno evidenziato come trascurando l'unicità di una persona questa possa diventare oggetto di scherno, di bullismo, di violenza. Bisogna lavorare per costruire una società che sta insieme, che si unisce, che evita separazioni. Questa iniziativa è stata molto bella anche perché anche lì c'era un'inclusione tra le vecchie e le nuove generazioni su delle parole importanti come la diversità, come la solidarietà, l'inclusione sociale e penso che siano valori da rilanciare, da ricostruire per tenere insieme il Paese e per cui è un'iniziativa importante che ha un valore culturale, non solo politico, non solo sindacale che è quello di tenere insieme le generazioni, i soggetti diversi, i migranti che arriveranno e per cui è una politica che aiuta anche la pace. Per noi la diversità è unicità, non è differenza. Ci teniamo tanto a sottolinearlo e a costruire un mondo diverso e anche con il fatto che ci sono stati i bambini, questo è il vero patto intergenerazionale che noi vogliamo come SPI. Da Chiaravalle Centrale ci spostiamo, andiamo giù, andiamo a Roccella Ionica che da 20 anni è bandiera blu, si preparano diverse iniziative, sarà insomma una tre giorni scoppiettante. Roccella festeggia per il ventesimo anno consecutivo l'assegnazione della bandiera blu con l'ambito vessillo che sventolerà sul porto della cittadina Ionica è stata riconosciuta alla locale amministrazione l'attenzione alle problematiche ecologiche ambientali con particolare riferimento alla sostenibilità e alla salvaguardia dell'ecosistema marino. Saranno tre le giornate che il Comune ha riservato a questo particolare appuntamento 20 anni di bandiera blu che pochi altri centri rivieraschi nazionali possono vantare. Sotto gli occhi di scolari e studenti delle locali scuole è stata issata la bandiera che di fatto ha dato il via alla stagione estiva. Ci è sembrato giusto iniziare queste tre giorni perché sono tre giorni di inizio di festeggiamenti per la ventesima bandiera blu con i ragazzi perché noi già tradizionalmente facciamo issare la bandiera blu ai bambini della scuola primaria di Roccella. Quest'anno l'impegno dei bambini e delle maestre e della dirigente è stato straordinario. Una grande partecipazione alla cosa che ci conforta è veramente l'attaccamento dei bambini alla bandiera blu. Credo che questo sia il risultato di anni di politica e di sensibilizzazione. Noi dobbiamo lavorare sui bambini perché i bambini diventano sentinelle importanti per la tutela ambientale. Noi siamo onorati di partecipare per il secondo anno a questo evento che poi è un grandissimo festeggiamento per tutta la nostra comunità e sono onorata perché è stato dato una giornata, un momento nostro in cui permettere di far riflettere i futuri uomini e donne perché la scuola non porta ad un traguardo, attiva dei processi e noi nella scuola abbiamo attivato un processo di attenzione, di sensibilità e rispetto anche degli ambienti che ci vengono affidati e che poi dovremo restituire alle future generazioni. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento. I temi della solidarietà, una corsa contro la fama nel mondo interessante iniziativa a Frascineto che ha visto protagonisti gli studenti. Per tutti noi ragazzi il diritto è di studiare, per tutti noi ragazzi il diritto è di giocare, per tutti noi ragazzi il diritto è di giocare, io come tu, io come tu. Presse il campo sportivo di Frascineto si è svolta la corsa contro la fame l'evento didattico solidale più grande al mondo, nato in Francia nel 1997 e giunto in Italia alla sua quinta edizione con l'adizione di 303 scuole su tutto il territorio nazionale e oltre 2.000 a livello internazionale in 30 paesi in tutto il mondo. Scusate le eccellenze, scusate i monsignori, abbiamo un corpo in gola e lo tiriamo fuori. La vita come è fatta, noi mica ci piace, vogliamo cambiare tutto e avere un po' di pace. Oggi è una giornata davvero speciale, diciamo una giornata di solidarietà che vede la partecipazione numerosa ed endusiasta degli alunni della scuola dell'infanzia di Eianina, scuola primaria di Civita e scuola primaria e secondaria di Frascineto. Questa manifestazione è la conclusione di un progetto corsa contro la fame al quale abbiamo aderito tutte le scuole dell'Istituto Omni comprensivo dall'inizio dell'anno scolastico e questo progetto è stato inserito nel percorso trasversale di educazione civica. Un percorso solidale dove ogni singolo studente più giri percorreva e maggiori erano i fondi raccolti attraverso i suoi sponsor, amici, familiari, vicini di casa, tanti più giri percorsi e tanto più si è riuscite a moltiplicare le promesse di donazione fatta e questo è il meccanismo che sta alla base della corsa contro la fame. Allora per me corsa contro la fame vuol dire aiutare le persone che sono meno fortunate di noi e sono felice di correre. Perché ci ha aiutato a conoscere dei bambini che sono poveri e noi li stiamo aiutando. Che tempo farà nelle prossime ore? Ce lo spiegano anche oggi gli esperti di Trebimeteo.com Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo. Partiamo dal satellite questa giornata di venerdì. Possiamo adottare ancora un minimo di bassa pressione tra il Nordafrica e la Sardegna con qualche temporale in quest'ora sulla Sardegna, nubi medio-alte altrove. Durante il pomeriggio però localizzati i piovaschi non mancheranno sull'Appennino. Sole a nord, qui i cambiamenti giungeranno nella giornata di sabato. Possiamo notare di fatti come nel weekend ci sarà il minimo di bassa pressione attualmente sulla Sardegna in marcia verso lo Ionio. Determinerà sabato dei temporali in alcune zone della Sicilia, meglio sulle restanti settori del sud. Però al centro nord dopo una mattinata di bel tempo e di clima estivo aggiungerà aria fresca dal nord Europa in quota con l'innesco sabato tra metà pomeriggio e la serata di rovesci e temporali sparsi sulle regioni settentrionali ma anche Lazio, Toscana, Umbria, Marche. Fenomeni anche intensi sulle regioni nord orientali con locali grandi inade. Domenica gran variabilità, ancora localizzati i piovaschi più probabili al nord e lungo l'Appennino ma osservate più che altro le temperature in sensibile calo su parte del centro Italia e anche il nord. Faremo fatica veramente a superare in alcune aree 20-22 gradi complice anche una certa nuvolosità. Per quanto riguarda invece la nuova settimana, nel corso di lunedì ancora residuo variabilità sulle Alpi nord orientali inizia a migliorare altrove per l'alta pressione in rinforzo e possiamo notare come proprio durante il ponte del 2 giugno l'alta pressione di matrice nord africana interesserà tutta Italia e quindi ci attendiamo da mercoledì in poi un netto rialzo delle temperature sul nostro paese una nuova escalation di grande caldo. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app di Trapi Meteo. È tutto per il momento, grazie per averci seguito l'informazione, tornerà più tardi.